Cari amici, racconti in tempo di peste. Che cos'è? Stiamo vivendo un momento particolare, un momento in cui siamo chiamati tutti a una solitudine forzata. La solitudine che noi conosciamo bene come momento prezioso, personale, di riflessione, di abbandono, di sensibilità, di creatività. Ora invece in questo tempo ci viene imposta. Noi artisti, noi attori conosciamo bene la solitudine. È per noi ciò che sta prima, ciò che viene prima dell'atto però di incontrarvi, di incontrare l'affetto del pubblico. La solitudine che poi finisce, si libera quando poi vi incontriamo e voi ci applaudite. Ecco, in fondo noi abbiamo scelto di fare di ogni atto un incontro. Il teatro è l'umano che si fa ogni sera, diceva Giorgio Streller. Questo umano si fa proprio incontrandovi, sentendo la vostra passione, le vostre emozioni di spettatori appassionati. Ecco, ora tutto questo in questi giorni è impossibile. In questo periodo, come sapete, i teatri sono chiusi, le compagnie hanno smesso di girare, molte stagioni sono state cancellate e noi scarrozzanti giramondo invece siamo costretti a stare fermi. Ci tocca stare a casa. Certo il nostro lavoro non si ferma, noi continuiamo a scrivere, a pensare, a creare, a preparare quello che arriverà. Questa volta forse arriverà un po' più tardi, però arriverà. Non sottovalutiamo questo periodo. Nelle difficoltà, anzi, troviamo il modo di reagire. Ex malo bonum, diceva Sant'Agostino. Ecco, proprio nelle difficoltà troviamo la soluzione, troviamo quelle strade che forse in altro momento sarebbero per noi sconosciute. Ecco, qualcosa di buono. Ecco allora per voi cento racconti, cento giornate, un po' come nel Decamerone. Un piccolo grande regalo che i più grandi artisti italiani ci hanno fatto e che noi, noi giriamo a voi, il nostro pubblico, per non dimenticare il teatro, per non dimenticare la poesia, per tenervi compagnia, per tenerci vivi, appassionati e per farci appunto ancora battere il cuore di quella passione, di quel palpito, di quell'amore che solo il teatro ci può dare. Questo l'abbiamo capito. Buona visione a tutti dunque e a presto, a presto in scena.